ciao super tecnicamente fantastici video importantissimo cop voce stappa la bottiglia e diventa il leader dei virtuali finalmente sorpasso definitivo due punti di domanda in questo video la giga al limite da attenzione a 9 90 al mese la tariffa dell'anno molto probabilmente sì io decantavo da molto tempo chi mi conosce che mi seguo da tempo anche i nuovi possono andare poi a riprendere i video passati dicevo che cop voce aveva un potenziale da leadership assoluta bastava entrare a competere sul prezzo delle tariffe purtroppo era cara grande assistenza bene la linea limiti di banda altissimi 100 megabit quindi un 4g godibile a pieno comunque ci sono io non mi piacciono li detesto i limiti di banda non vanno bene però comunque con voce ti fa godere il 4g a pieno i gigi utilizzabili anche all'estero un ottimo gestore mancava il prezzo beh questa tariffa e anche le scorse il fatto della 200 giga 790 sempre della evo 200 insomma ha incominciato ad entrare sempre più forti in un mercato già molto competitivo e pieno di gestori virtuali e sta per veramente per staccare definitivamente la concorrenza e prendersi la leadership ma attenzione c'è un utente più veloce che casca in un video così importante che è Andy Lee ciao Andy Lee chi per primo commenterà sarà salutato nel prossimo video like istruzione campanellina tutti i social per contentarmi ti rispondo sempre link amazon clicca lì e sostieni il canale importante acquistare sempre link amazon allora come composta questa evo 200 fino al 28 novembre supportabilità da qualsiasi numero questa è già una bella cosa ma comunque c'è una mentalità già diversa da dai soliti medioevali coi vincoli in questo già mi piace potete prendere questa tariffa anziché a 14 90 a 9 90 1000 sms che non li userete mai come fossero illimitati minuti limitati giga illimitati ma con un limite di banda 10 megabit upload e download in sino upload che in download e qua dobbiamo discutere il 10 megabit e tutto quello che gira tutto intorno a questo poi la leadership la tariffa la faccio non la faccio ma avete scritto in tantissimo nel video era già pronto non vi preoccupate qua arriviamo sempre e per primi ovviamente allora la tariffa 9 90 prezzo assolutamente in linea anzi ha delle caratteristiche interne questo bundle che non ha nessuno quindi in linea con le migliori tariffe che ci sono attualmente sui 200 250 220 giga 9 90 ma questa c'è i giga illimitati dentro ragazzi al di là dei 10 megabit che comunque è un limite di banda abbastanza restrittivo ok e quindi dobbiamo parlare la tariffa assolutamente eccezionale la possono attivare da tutti i numeri copvoce aveva già guadagnato un sacco di terreno e la metteva al numero 2 solo dopo dietro veri mobile vediamo se con questa tariffa riesce e poi ci saranno le già le di fine anno riesce poi a entrare al numero 1 e a mantenere la leadership allora ragionamento io so che voi siete intelligenti capite sempre 90 per cento sono intelligenti il cento per cento sono intelligenti qua quel 10 per cento che fa finta di non esserlo lo è a buon intendente a poche parole lo è e capisce bene poi per motivazioni diverse la può pensare in un altro modo ed è giusto che se così mi piace confrontarmi che sia la critica che ci sia chi è d'accordo chi no se fosse il cento per cento il mio canale devo dire che al 90 80 per cento di persone d'accordo che è un altissimo share però mi piace che ci sia quello che si lamenta che le vostre discussioni tra di voi nell'educazione se vedo io non ho mai cancellato come te è raro solo dove c'è un parolaccio però devo dire che il mio canale assolutamente a persone di un certo tipo quindi migliaia migliaia e anche chi è iscritto chi viene solo a commentare comunque non usa mai toni in tra i casi ci sono state delle moderazioni per parolaccio cose che all'iro allora non tollero e cancello i commenti e se è il caso la persona viene allontanata ma sono proprio casi rarissimi perché qua vogliamo solo il bene degli utenti e andare d'accordo con tutti gli operatori se ci fossero tutti gli operatori virtuali tutti i fisici con un prezzo basso e la super tariffa sarebbe bello fare qualsiasi operatore sarei leadership di tutti ma poi c'è un mercato c'è chi più c'è chi meno c'è chi sceglie di avere o non avere determinate caratteristiche di conseguenza cosa fare allora questa tariffa 990 ma qual è il punto di forza ragazzi sì ci sono i 10 megabit di limiti di banda ma voi pensate a 990 i giga illimitati ma chi ve li dà ma chi ve li dà 990 con i minuti di sms attaccati i giga illimitati è vero che ci sono i 10 megabit ma voi pretendete che un operatore virtuale li possa dare anche i giga illimitati a 100 megabit cioè a 990 è molto difficile allora in questo caso il limite di banda è più comprensibile anche se non lo accetto anche se non lo accetto ma è più comprensibile perché se mi fa copvoce un operatore virtuale un limite di banda dando a me 990 anche la possibilità di usare internet illimitatamente ha una logica ha una super logica anche se io non lo metterei lo avrei messo a 50 mega ma probabilmente non riescono ok quindi questa è una tariffa assolutamente eccellente promossa la migliore ad oggi assolutamente è sotto gli occhi di tutti i 10 megabit è vero ma con 10 mega cosa ci faccio con 10 mega navighi con 10 mega scarichi con 10 mega va in streaming almeno su un dispositivo non di più potete andare in hot spot e condividere una buona legna abbastanza fluida su un altro dispositivo certo se pretendete di fare hot spot a tre dispositivi o di condividere tre netflix su 10 mega fate fatica ok ma se la utilizzate per singolo utente cioè internet normale tutti i giorni video youtube scaricare applicazioni navigare vedervi in streaming qualcosa 10 mega vai cioè avete un internet funzionale nella media per un uso normo dotato ecco normale se invece avete delle pretese diverse chiaramente bisogna andare sui limiti di banda più alti 100 mega 200 mega almeno i 30 mega come minimo anche se siamo molto vi garantisco che questa tariffa di coppovoce quando voi poi torate l'internet e i test arrivate anche a 20 30 mega mi arrivano già notizie dei 20 e 30 mega ok quindi gente che comunque riesce andare con i 15 20 megabit anche anche e già 20 megabit vuol dire avere quasi i limiti di banda di veri mobile con una illimitata che poi fossero 10 ma io come secondo numero la faccio subito subito per quello che è il mio uso come primo numero il 10 mega mi sta stretto purtroppo ma la farei tra virgolette però mi sta stretto quindi non riesco ma come secondo numero subito a un giga illimitati 10 mega vanno da dio chiaramente se ho un uso però io ho un uso molto massivo anche di dati poi anche di velocità ho bisogno di spunto allora il 10 mega mi può penalizzare potrei non sceglierla come primo numero ma un utente nella media il 70 per cento possono andare come primo numero alla grande e anni gigabit cioè pensate una persona che ha la necessità di avere i gigabit limitati perché non ha possibilità economica di avere una fibra cioè gli dai a 990 comunque a 10 megabit è una cosa intelligente in questo momento in cui il mondo crolla non c'è una lira c'è una crisi la benzina costa 20 mila euro il pellet non so qua non andiamo su certi discorsi perché poi io so mi arrabbio lasciamo perdere la mentalità che è molto particolare chiuso in un momento così comunque lavoro ma anche tutto quanto mettere a 990 giga illimitati anche con 10 megabit è una mossa molto intelligente oltre che per anche chi si può permettere una fibra come secondo numero come primo numero è assolutamente perché non si può permettere capite a 990 c'è tutto chiaramente con dei limiti chiaramente se tu vai a prendere una fibra da anche dal misto rame da 200 mega vai 20 volte più veloce puoi mettere quattro dispositivi insieme in casa avere un uso più massivo con questa non puoi fare le stesse cose ma i tuoi 10 mega per navigare anche a casa in hotspot anche ce li hai comunque ce li hai quindi una tariffa veramente intelligente un prezzo super giga illimitati sms 1000 e le chiamate ecco voce dietro che comunque la garanzia quindi è leader assolutamente sì sorpasso definitivo l'avevo detto ricordate che qua siamo sempre a prenderle prima ok le notizie arrivano prima le tariffe si sanno prima e soprattutto si indovinerà quello che succederà quindi siamo anche maghi su questo canale quindi quando vi dicevo che con voce aveva il potenziale per diventare leader e noi abbiamo insistito qua nel canale per cui iscrivetevi iscrivetevi più cresciamo e stiamo crescendo tanto e più abbiamo voce in capitolo copvoce ci ascolta ha incominciato a abbassare i prezzi 790 200 giga a fare per tariffe più competitive entra 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 già arrivata al numero uno è lì con veri mobile a giocarsi la leadership vediamo entro fine anno com'è in questo momento li vedo alla pari poi subito dietro appena dietro vedo poste mobile ok lì lì collocata lì con con o mobile che no ok quarte quinti ok quindi questi sono i cinque però primo secondo terzo quarte quinti questo è il discorso attuale ma con voce già lì ormai con questa super tariffa che ha avuto il coraggio di lanciare con intelligenza e l'avevo detto hanno il potenziale da leader se entrano in competizione col prezzo questi vanno al numero uno e così è stato è così attualmente con veri bisogna vedere veri mobile che reazione avrà i 300 giga è una tariffa fortissima ma l'illimitato anche a 10 megabit lo è anche perché i 300 giga sono limitati a 30 mega se con voce va tra i 10 e 20 mega con l'illimitato è superiore parliamo di un illimitato a questo punto quello che può fare veri mobile è sparare una limited a 990 con un limite di banda più alto potrebbe essere una super mossa per cercare di riprendersi magari questa questa cosa o mettere il 5g aspetta mi è scappato qualcosa orca miseria ci vediamo nei prossimi video mi è scappato mi è scappato ma così si uscita interesse mi è scappato apposta o mi è scappato voi che mi conoscete lo sapete se apposta ne vedremo delle belle da qua fino a anni figuriamoci in quello nuovo ciao e grazie come sempre